Sono Francesco Diccio Snaples e siamo qui con Mr. Faustino Canè, premio alla carriera del Festival del Calcio Italiano. Io direi di partire subito su una domanda sul Napoli, che è un po' la sua squadra, possiamo dire, del cuore? Sicuramente sì, altro che cuore. È una squadra che ci ha fatto piangere l'anno scorso, ci ha fatto sorridere, ci ha fatto gioire e logicamente aspettavamo un futuro migliore, perlomeno fin qui. Però bisogna avere fiducia, bisogna dargli fiducia ai giocatori attuali, che sono più o meno al 90% quelli dell'anno scorso e questi giocatori vanno aiutati, perché sono i meno colpevoli di questa disastrosa iniziale del campionato di quest'anno. Ma Zarri può riportare a Napoli una voglia di lottare per il quarto posto, almeno, e provare qualcosa in più? Ci mancherebbe. È una situazione del genere, in modo che lui ha accettato questo discorso della società, non si aspetterà altro che un buon lavoro suo. Il discorso è un altro. Diciamo la verità, non è più attualizzato. Il Napoli avrebbe bisogno di un grande futuro. Il grande futuro poteva essere in questo momento che il Presidente poteva riuscire a salvare i salvabili. Secondo il mio modesto parere, si doveva pensare al futuro, da adesso. Nathan, come difensore centrale, forse possiamo dire che è il migliore di questo avvio stagione, non ha fatto rimpiangere Kim, ha mostrato delle grandi qualità. Come lo vede nel futuro? Sicuramente è molto giovane, va aiutato, va sostenuto. Io, da paesano, ma non solo, anche vedendolo in campo, ho le sue attitudini, per me promette. È chiaro che entra in un meccanismo dove tutto andava bene l'anno scorso. Come stelle brasiliane future, ovviamente notiamo sicuramente Vinicius Junior. Un suo parere su questo che potrebbe essere il talento del Brasile nei prossimi dieci anni? Sicuramente sì. Anzi, mi dispiace per il ragazzo, però contro di noi non ci sarà. E questo, secondo me, è un grosso vantaggio. Chiudiamo con una domanda su Neymar. Cosa ne pensa? Possiamo dire che è stato l'eroe nazionale degli ultimi dieci anni che ha provato a riportare il Brasile in alto, ha avuto tantissimi infortuni, una carriera comunque altalenante. Condivide la scelta di andare in Arabia così giovane? Questi sono momenti attuali che purtroppo si andrà, oramai il calcio va verso questa situazione. Non solo dall'Arabia, anche altri paesi vorranno venire fuori col calcio internazionale e sicuramente prenderanno il migliore. Praticamente i giocatori Neymar, io lo vedo non curato come dovrebbe essere di questi tempi. Secondo me non fa vita da atleta perché probabilmente i guadagni sono importanti perché lo merita, perché lo sa fare il suo mestiere e compagnia bella. Secondo me, curato meglio dai suoi manager, dai suoi allenatori, potrebbe rendere molto di più e farsi male molto di meno. No, noi la lasciamo a questo evento e la ringraziamo. Prego.